Tagno del nastro per il nuovo palamatese di Piedimonte che diventerà un vero centro dello sport delle varie discipline. Piedimonte dunque ha finalmente il suo palazzetto gioiello come si vede dalle immagini immediato dall'intera regione campania che può ospitare un numero enorme di atleti piccoli e grandi, importante anche come servizio sociale per allontanare i giovani dalla strada e non solo per quelli che vogliono diventare grandi campioni. Attualmente sono 600 gli atleti delle varie discipline sportive in forza alla polisportiva amatese che è una vera occasione per chi vuole fare lo sport. Anche Nando Gentile, campione di basket, era presente all'inaugurazione che ha preso l'impegno di portare a Piedimonte la sua Juve Caserta rimanendo letteralmente affascinato dalla bellezza dell'impianto. Oltre agli amministratori, questa volta in prima fila e non è frequente, c'era anche il sindaco Vittorio Civitillo. Sindaco, finalmente un palazzetto degno di questa città. Sì, secondo me è meraviglioso, abbiamo compiuto uno sforzo in mane, questa è tutta opera della polisportiva amatese che ha seguito i lavori in tempi di record con un appalto in concessione del comune che noi come amministrazione abbiamo favorito e spinto perché era realmente importante recuperare questo luogo che ha abbandonato da troppi anni. Ecco, si diceva in tempi record, pare che il sindaco abbia mantenuto la promessa. Sì, abbiamo avuto anche dei problemi perché i lavori eseguiti prima dalla ditta che aveva l'appalto, insomma, l'abbiamo dovuto rimuovere perché non erano utilizzabili, quindi abbiamo impiegato un po' più di tempo, però alla fine il risultato secondo me è meraviglioso. Chi potrà sfruttare questa splendida struttura? Anzitutto la polisportiva che non è una società privata ormai perché ha raccolto tutte le anime dello sport di Piedimonte, la gran parte, che conta 600 atleti, quindi 600 atleti oltre gli allenatori e i dirigenti, ma poi chiunque voglia partecipare, voglia fare allenamento qui potrà semplicemente chiederlo come già previsto dai regolamenti comunali. Una domanda extra palazzetto, la squadra di calcio pare che stendi un pochettino, allora il sindaco ce la fa, ha anche una promessa di migliorare questa squadra? Io mi fido ciecamente di chi ha costruito la squadra, il direttore sportivo Corrado Urbano che è un allenatore eccezionale, diciamo che noi siamo abituati alle partenze false, quindi se porta bene come gli anni scorsi, andrà bene così, poi avremo il tempo per costruire una grande squadra. Mario, tu hai calcato anche palazzetti importanti, ma questo mi sembra all'altezza, no? Assolutamente sì, era un dovere poter dare la disponibilità di un campo così importante alla città di Piedimonte, quindi siamo tutti molto soddisfatti. Quindi addio a gioia finalmente, anche se tutto sommato ci hanno dato una mano, no? No, assolutamente, gioia non solo va ringraziata, senza gioia non avevamo la possibilità di poter vincere i campionati.